Un governo di indecisi scrive il menù, ma la ripresa è un piatto già freddo. E ora, sembra che non ci resti che sperare nell'ennesimo decreto, quello della semplificazione, che per il premier Conte dovrebbe fare recuperare l'Italia 20 anni di ritardo e garantire una ripresa. Ma davvero qualcuno può pensare che chi ha firmato decreti zeppi di burocratichese possa improvvisamente diventare il mago della chiarezza e della logica? Ci sia consentito esprimere seri dubbi, anche se, ovviamente, non possiamo chitifare perché questo miracolo possa compiersi. Restando coi piedi per terra, va detto subito che se davvero si vuole modernare il Paese e rilanciare l'economia, lo si può fare solo abbandonando visioni ideologiche o pregiudizi. Non si può, ad esempio, pensare che la semplificazione debba riguardare solo il mondo degli appalti, col prevedibile rischio che tutti i costi subiscano un'ennesima impennata. La burocrazia e il frazionamento delle competenze sono la palla al piede che frena tutte le imprese italiane. Si deve intervenire con decisione a tutti i livelli, rendendo celeri le procedure per le autorizzazioni o i controlli, ma non solo in campo edilizio o per progetti green. Per non parlare dell'ennesima sparata demagogica, secondo cui si pensa di ammodernare la burocrazia, annunciando che la maggior parte degli statali non tornerà in ufficio a lavorare da casa almeno fino al 2021. A parte la mancanza di studi sull'efficacia, o meno, di un telelavoro generalizzato per il pubblico impiego, è scandaloso il solo fatto che qualcuno pensi ad una simile porcheria, anche perché lo smart working, resosi necessario per evitare i contagi dei mesi scorsi, ha creato solo disagio ai cittadini utenti e, come se non bastasse, sta letteralmente uccidendo molti bar e ristoranti. Nella sola Roma, dove per la pausa pranzo mancano all'appello almeno 500 mila impiegati statali, il 20% dei pubblici esercizi teme di dover chiudere a breve, mentre il 90% sta pensando di ridurre il personale. E lo stesso vale per tutte le città. A Milano, ad esempio, mancano ogni giorno 270 mila burocrati, oltre ai colletti bianchi delle imprese privati, a partire dalle banche, e i pubblici esercizi del centro sono in ginocchio. E per ogni bar o ristorante che chiude, a parte i problemi occupazionali, ci sarebbero anche danni economici a cascata per tutti i fornitori, per i proprietari degli immobili e per la stessa vita dei centri storici. E questo senza considerare che se gli impiegati continuano a stare a casa, lo Stato e le banche danno al Paese un segnale tremendo, vuol dire che non si può lavorare in sicurezza. Ciò significa che c'è una classe dirigente al governo, come nelle regioni, di indecisi o incapaci, che ci sta prendendo in giro. Si può anche dire che la ripresa va fatta a piccoli passi, ma non è accettabile che qualcuno neanche alzi un piede. Ogni giorno di mancato lavoro in una filiale comporta, ad esempio, ritardi nei finanziamenti bancari dovuti alle imprese, che così non riescono a recuperare. E mentre si tengono a casa in sicurezza i colletti bianchi, si autorizzano magari le sagre dove questi se ne possono andare tranquillamente, incuranti degli assembramenti. Oltre al danno, la beffa. Il lavoro agile che viene annunciato dal Premier e da alcuni suoi ministri potrebbe essere anche importante, se riempito di contenuti, di cui non si ha però traccia. Ma è una sorta di rivoluzione che lascerà sul terreno molti cadaveri, a partire proprio dai pubblici esercizi. L'impatto che può avere sui laboratori, sulle città e sull'economia in generale va considerato nella sua globalità. In ballo non c'è solo l'interesse di qualche bar o ristorante già in ginocchio per il Covid-19, rischia di saltare l'intera rete dell'accoglienza perno del nostro turismo. E parliamo di aziende dove più, prima ancora di chiedere aiuti, vorrebbero solo poter lavorare, riempiendo come un tempo i locali. Un'idiozia a cui se ne potrebbe poi aggiungere un'altra degna solo di chi pensa ancora come se fossimo nel Novecento e non dovessimo uscire da una crisi drammatica. Rinnovare i contratti di lavoro riducendo l'orario ma mantenendo lo stesso stipendio. Una genialata del nuovo segretario generale della UIL che probabilmente, come molti dei nostri politici, non ha mai lavorato in vita sua. Se però lo smart working dei gli impiegati pubblici e privati è davvero la strada che il governo vuole intraprendere, lo deve dire subito. Non si possono fare indebitare ulteriormente gestori in difficoltà che sperano in un ritorno di clientela che si prefila effimero e non si possono illudere centinaia di migliaia di camerieri, baristi e cuochi che dopo questo periodo di cassa integrazione pagata in ritardo, quando è andata bene, potrebbero trovarsi senza lavoro. Il menù di questo governo rischia di servire loro un piatto freddo immangiabile, se non avvelenato. Una semplificazione, come immaginano alcuni buontemponi da decrescita felice, manderebbe allo sbaraglio migliaia di imprese e sarebbe il frutto peggiore di un sistema malato che pensa solo a salvare se stesso. Se a qualcuno interessa solo tutelare i burocrati, magari per evitargli il carcere se non fanno i dovuti controlli sugli appalti o garantire vitalizi, forse è il caso di alzare la voce e fermare l'ennesimo colpo di demagoghi da quattro soldi. Pena un disastro sociale incalcolabile. Per semplificare il Paese servono opere pubbliche in tempi ragionevoli, ma anche una giustizia celere, procedure comprensibili, controlli sicuri e regole uguali per tutti. Per non parlare di una sanità sganciata dalle scelte politiche, pensiamo al disastro della regione Lombardia con il Covid-19. Una semplificazione che ci regala il telelavoro della casta burocratica e che non risolva invece i problemi dei troppi diversi codici a teco di chi può somministrare cibo e bevande o che non informi le aliquote IVA rispetto a come è venduta la stessa bottiglia di vino, sarebbe l'ultima follia che l'Italia non può permettersi. L'unica semplificazione di cui ha bisogno l'Italia è quella che rende più smart le imprese. Ricette fantasiose o bocciate dalla storia non servono a nessuno.